Sospensione attività didattiche per oggi, 24 febbraio, per l'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, Primaria di San Marco e Cannetiello, Infanzia, Via Verga e Cannetiello. Lo fa sapere il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola. Ho prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza per i plessi della scuola primaria e dell'infanzia di Via Verga per la giornata di oggi, 24 febbraio. Resterà chiusa anche la primaria di Via Selvi, qui sarà aperta la sola scuola dell'infanzia. Non sono pervenuti gli esiti dei tamponi delle insegnanti inserite nella catena di contatto degli ultimi casi di positività al Covid-19 maturati in quell'ambiente scolastico e quindi persiste per la dirigente scolastica la medesima difficoltà nel garantire la didattica in presenza. Mi è stato inoltre comunicato che sono emersi due casi di positività tra gli alunni frequentanti la scuola di Cannetiello, ragion per cui ho disposto la chiusura anche di tale plesso, infanzia e primaria, per permettere nella giornata di oggi l'espletamento delle procedure di sanificazione, conclude il sindaco Adamo Coppola.